Gli occhi della tigre, amico, gli occhi della tigre. Né io, né tu, nessuno può colpire truolo come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come stai a resistere ai colpi, come incasti. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti, così sei un vincente. La scena è legata. La scena è legata. La scena è legata. Cifeni, giver utile. La scena è legata e giverte la scena in. La scena è legata. Era scena è legata! Grazie a tutti. Grazie a tutti.